Salve a tutti e bentornati a Salt and Sanctuary Continuiamo la nostra avventura Non mi ricordo dove siamo arrivati Ah si avevamo tentato di Entrare al Un castello ma non ci eravamo riusciti No no Massacrato E soprattutto Uh Ah Ok Non incantesimo No Ah Ah Ok ma qua sotto Mi sa che facciamo una brutta fine se ci andiamo Ah Sì te lo sapete che c'è Quanti ne Abbiamo anche due guide Ah Ah Interessante Imperial Shock Stone Spice at mid Ma C'è già Non ho Non è che ho ben capito Scusate C'è io questa già ce l'ho Sono quelle che si recuperano normalmente Me ne da una in più Proviamoci dai Quindi se io adesso Mi riposo Me ne da una in più Ah Molto interessante Devotion 2 Questo porta ovunque Molto interessante Quindi Vediamo un po' Oh Ma Mi hanno Cioè Io non ho parole Mi hanno chiuso in una stretta mortale No Terribili questi mostri Ok Non veramente terribili Qui ce n'era un altro Oh Ok Forse la sto prendendo Un po' troppo la leggera Ah Già Qua era tutto chiuso Hmm Dovete che mi sa che mi sono Un po' perso Hmm Mi sa che dovevo ritornare Dove avevo affrontato L'alchimista Però Hmm Sto cercando di ricordarmi Mi sa di sì Oh Che capriola Che dovrebbe essere Watching woods Perché vedo Che è un santuario diverso Ah Ah cavolo Me ne ha tolto uno Mi sa di sì Oh no Ma dai Sto qua Oh cavolo Quindi l'unica strada Fattibile È quella Ah Del castello Possibile Non ci sono Altre strade Qual è Sankin keep Questa Sembra Sembra Questa Anche perché è l'unico Dove ne ho tre Ah Niente Dobbiamo tornare Per forza Nel castello Ciò è molto Sfaventoso Molto Spaventoso Oh Huh Oh Oh Sfaventoso Molto utili Quelle Quelle note Peccato che non si possono votare Scorciatoia Scorciatoia dove Non c'è nessuna Scorciatoia Quanto non mi piace Questo castello Però veramente Difficile Mi chiedo se Nooo Volevo allontanarmi Per curare E invece Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Bene Musica Ah Ok Grenado Quasi quasi Non è una brutta idea Che cosa fa il light vessel Dov'è Grenado? Eccole Vediamo se magari sono utili Contro i teschi volanti Ne dubito Oh oh No 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 Oh cavolo Ok No non è andata Come previsto Anzi Ho preso tantissimo danno Però ero curioso di vedere Se questi cavalieri Una volta affrontati No Compare di nuovo Dannazione L'unica strada rimasta È di qua Allora 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 Ce la farò Direi di no Oh cavolo Oh cavolo Che brutta Che brutta situazione No Ciao Ah Mi ricordo Di le No 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 Non me lo sono mai chiesto Volete vedere che questa Questo ascensore Questo ascensore Rivolta giù Vicino al santuario Ecco perché diceva shortcut here Oh beh Qualcosa siamo riusciti a fare Comunque Ah Allora Direi di iniziare a mettere i punti In endurance Vediamo se già possiamo No Mi sa che Ho esagerato Però forse Quella un po' più leggera 92 89 96 Ah 101 Quasi però Quasi Direi che ci stiamo quasi No 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 Cavolo Certo dopo tutto questo tempo Questi mostri Quindi potrei anche fare un po' meglio Ah Mi sa che non faccio a tempo Avete visto là sotto Sa come ci si arriva Oh Oh Interessante Alla prossima Ok Un bel po' di danno Uh un'altra guida Devo iniziare a piazzarle No Mi stavo appunto chiedendo Perché non riesco A curarmi Perché non avevo la cura equipaggiata Cioè l'avevo equipaggiata Ma non l'avevo selezionata Oh No Ok Questo è male Questo è molto male Eh Lo riproviamo Oh 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 Oh, che cavolo Sera resistente Scusate E eccomi Di qua si scende e non si sale più Salve Dove porta? Oh Molto interessante Fire defense 100 Non male Non si sale qua Nessuna maniera Ciò significa che il boss è vicino Aha Oh Sì beh Forse non proprio in quel posto Magari Wow Che volo Oh Un altro panno la vedevo Ci sarà il drago Di cui parlava il tempo Graspi in ring Ah Ma è quello che già c'avevo Ah Per scendere in sicurezza Almeno sembrerebbe Oh Cavolo se è grosso Oh Ouch Ok Non hai idea Non hai idea Oh Ah Cavolo è arrivata fino alla fine Ok Eh penso che oramai Sia finita Ah Cavolo Oh Mi piacerebbe avere quello scudo Che dà la resistenza al fuoco Ce l'ha qualcosa con la resistenza al fuoco Va di poco Oddio questa 33 36 Sembra assurdo Anelli Ah rigenera montiferità Quell'arcane Hmm Questo dà già 50 52 72 76 Questo sarebbe veramente bello 50 Possiamo provare Certo Non sono mai stato così veloce Eh Eh quasi Eccomi drago Oh Oh Ok Oh Oh Ah Oh Ah Ah, caolo. Scappa, scappa. Ah, mancato. Oh, mancato. No. No. Ma ogni tanto non mi vara. Forse perché finisco la stamina. Ok. No, mancato. No. Oh, fortuna. Una. Eeeh. Direi di tornare a prenderci le pozioni. Ok. Oh, beh. Ci possiamo anche tenere il nostro elmo a zucca. Ok, ora che abbiamo ucciso il drago. Oh. Salve. Eh. Ah. Ok, ma il drago l'ho ucciso. Shadow flip brand. Ok. 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 cosa farebbe lo shadow flip mi aspettavo fosse qualcosa per saltare tipo più in alto eh esatto tipo così no cavolo come come si fa a far materializzare quel no credevo no cavolo allora se mi ricordo bene giù c'era una porta sempre micidiali comunque ah non sta salendo ok forse non stava sotto sotto perché sotto sotto è chiuso ha ha ok oh tu che sei ok che vendi ah soldier's poem stained page oh ce l'ho io questa stained page no ho le blessed page perché ho letto dov'era crash its brittle page in a holy place to expunge its sacred light aspetta prendiamo le 4 come si no che 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 Ok Come non detto amico Ci vediamo un'altra volta Resta là eh Io ci ho provato ad attaccarlo Hanno veramente tanto male Mi ricordo che c'era anche un'altra porta Chiusa Voi vi risvegliate vero? Uh lo spaventavasseri Ma Cioè vuole conoscermi ma Non a me a lui Ma sei uno spaventavasseri Eh Non siamo sicuri che sia veramente solo uno spaventavasseri Inizio ad avere i miei dubbi Has venito Ah Interessante Qui c'era quella Quel pozzo Ah Ouch Nah Speravo In un passaggio segreto Uh oh Hmm Ma Ha 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 Ma dimmi te Ouch Ouch Ma 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 Ok Vediamo qua che cosa c'era Lighting Storm Chissà se Posso andare anche Sì Proviamo prima a destra Aha E Ah già Ok Vediamo un po' E no Ancora Endurance L'abbiamo qua Ok Vediamo come stiamo messi adesso Direi che ancora non ci siamo Andiamo a 108 Ah Che peccato Ah Così però ce la facciamo Ok Va bene dai Mi accontento Bene Per questo episodio ci fermiamo qui Grazie a tutti E ci vediamo la prossima volta Con un'altra puntata di Sì 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 Ciao Ciao